Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la resegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, oggi è mercoledì e anche oggi cronache da Bisanzio, rissa finale tra Renzi e Conte con caccia a responsabili e controresponsabili, qualcuno dirà sfida all'ok Corral, però insomma qui non si vedono né Kirk Douglas né Bart Lancaster, più che altro i due ricordano Bugo e Morgan. Si tratta di capire chi lascerà il palco, però ospitate televisive saranno garantite all'uno e all'altro, proprio come Bugo e Morgan comincia stasera da Bruno Vespa, Matteo Renzi. Ma allora, senza indugio, andiamo a vedere le prime pagine dei giornali di oggi con la raccomandazione affettuosa, se vorrete, di passare in edicola a prendere la verità e, essendo oggi mercoledì, anche panorama. L'apertura della verità, l'ordinanza del GIP. Consipa, altro che complotto contro Renzi, il GIP dice, non hanno indagato sul gran capo. Il rottamatore parlava di intrighi ai suoi danni, ma il giudice alza il tiro e chiede di iscrivere l'ex alleato Verdini nelle carte, aspre critiche agli inquirenti e cioè rilievi inadeguati su alcune telefonate partite da Palazzo Chigi. Ritenuto centrale il ruolo di Babbo Tiziano, che resta indagato per traffico di influenze esercitati in due mediazioni e poi sarebbe stato aiutato dalla fuga di notizie. Naturalmente resta da capire chi sia, chi possa essere questo presunto gran capo. Di tutto questo scrivono, ed sono due pagine tutte da leggere, Giacomo Amadori e Fabio Amendolara. Il Corriere della Sera ci riporta alla sfida a Bugo Morgan, Conte alla sfida con Renzi. Lite sulle intercettazioni, poi tregua, il Premier pensa a una verifica in Parlamento. Il Fatto Quotidiano ci riporta alla questione del GIP di Roma. Renzi più guai penali che voti, il GIP fa a pezzi le non indagini romane su Papattiziano, Lotti, Verdini e compagni. Svolta nell'inchiesta sull'aereo blu, costato 26 volte il suo valore. Ma questa è un'altra faccenda ancora rispetto alla gara Consip. Ancora andiamo a vedere qualche altra apertura. Ieri vi avevamo dato la notizia che sui quotidiani di ieri mattina non poteva esserci, perché era avvenuta la notte precedente, la mega offerta di Intesa Subi. E su questo apre il giornale, svolta nel credito Superbanca d'Italia, e c'è un commento che vedremo di Nicola Porcio. Il messaggero, migranti, scudo per i ministri, e questo titolo ci incuriosisce perché il quotidiano romano mette nel sommario Decreti sicurezza. Per evitare altri casi Salvini il Premier risponderà degli atti del Viminale. Questa sarebbe la modifica che hanno in corpo. Ma questa modifica già c'è e ha un grado normativo superiore al più alto. Nella Carta Costituzionale, articolo 95, il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Qui, francamente, non si capisce bene dove si vada a parare, a meno di non voler creare una situazione curiosa. Per tutti gli altri vale la Costituzione. Per il futuro ci sarà pure la specifica in un decretino. Solo per Salvini vale, diciamo, una norma particolare per bastonarlo. Il tempo ci riporta un caso del quale c'eravamo occupati in questa rubrica e soprattutto sulla verità cartacea. Vi ricordate la storia della Casa delle Donne di Roma e il tentativo di infilare un emendamento nel Mille Proroghe per dare all'associazione diretta da Maura Cossutta, figlia di Armando, associazione fieramente di sinistra a 900.000 euro, operazione fallita? Ci si riprova da un'altra parte, spiega il tempo. Come buttare i nostri soldi? Zingaretti paga le amiche del PD. Il Presidente della Regione offre 700.000 euro annui alla Casa delle Donne di Maura Cossutta. Da anni lei occupava abusivamente un'immobileata che Virginia Raggi la voleva sbattere fuori. E poi, utilmente, il quotidiano diretto da Franco Becchis ci fa sapere tutte le attività di utilità sociale della Casa delle Donne. Teatro femminista, pilates, corsi di ballo, yoga, cori popolari. È fantastico. Immagino che il taxpayer, il contribuente, sia entusiasta di contribuire a tutto questo. La stampa, governo, Conte sfida Renzi, lo aspetto in Parlamento. E infine Repubblica, che invece sceglie in modo più chiaro da che parte stare, operazione Salva Conte. Ma attenzione al sommario perché c'è la notizia, vedremo un retroscena. Per Repubblica la cosa è fatta. Un gruppo di senatori lascia Forza Italia e chi guida le truppe l'ex ministro Romagna. Saremo interlocutori dell'esecutivo e vedremo anche con quale simbolo, con quale travestimento questi responsabili si presenteranno. Vedrete che a Bisanzio le sorprese non mancano mai. Ci arriveremo tra poco. Ma prima, come sempre, facciamoci aiutare a inquadrare la giornata da Maurizio Belpietro, che, diciamo, non si perde sui singoli alberi, ma prova a guardare la foto d'insieme, a guardare la foresta. Per durare, Giuseppe si scorda di governare. Io capisco che Giuseppe Conte abbia paura di perdere la poltrona. Probabilmente nei suoi panni qualsiasi miracolato che sia stato baciato dalla fortuna e si sia trovato a occupare un posto che mai avrebbe immaginato di poter ricoprire, farebbe ciò che sta facendo lui, e cioè si incollerebbe alla poltrona, costi quel che costi. Tuttavia, pur riconoscendo le buone ragioni del Presidente del Consiglio per fingere di fare il Presidente del Consiglio, è difficile non notare che da mesi, salvo stringere le mani, sorridere e spargere frasi rassicuranti a destra e a sinistra, altro non riesce a fare. Il governo è impantanato in una serie di beghe interne e di conseguenza lo è anche il Paese, perché ogni decisione è rinviata a data da destinarsi, cioè spostata più in là, per evitare una crisi. E poi tutto il ragionamento di Belpietro si sviluppa, come dire, spiegandosi con una serie di esempi, autostrade, Ilva, Alitalia e Ritali, la stessa vicenda della prescrizione, le decisioni da prendere su tasse e economia. E conclude, Conte sa bene che Renzi lo vuole far cadere, e sa altrettanto bene che se molla la caderega poi non ci sarà partita di ritorno, dunque l'imperativo rimane resistere, 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 a qualsiasi costo anche a quello di vedere naufragare il Paese. E allora, questa è la cornice, dentro questa cornice cominciamo a mettere un po' di macchie di colore prese da Bisanzio, o se preferite da Sanremo con Bugo e Morgan. Allora, cominciamo dal fatto quotidiano che ci racconta le mosse di Renzi, giustizia, guerra continua e il nuovo azzardo di Renzi, e sì, perché ieri si è aggiunto un altro fronte polemico sulle intercettazioni, scrive Vandamarre, attenzione all'incipit, perché potreste sbagliare persona leggendo la descrizione, scarpe a punta senza lacci, capelli cortissimi che evidenziano l'abbronzatura, e Scanzi, no, e Renzi, perché si parla di abbronzatura pakistana, e mano rigorosamente sullo smartphone a mostrare le sue discese sciistiche sull'Himalaya. A Palazzo Madama, Matteo Renzi è pronto per l'ennesima battaglia. Sarà quella definitiva che lo porta fuori dalla maggioranza? O ancora per oggi si limiterà un ultimatum a Giuseppe Conte, come fa a capire parlando con cronisti e colleghi, virgolette, vi consiglio di guardare Bruno Vespa, stasera. È importante per la legislatura, si spinge a dire, farà un discorso durissimo, ribadirà che il governo è fermo, insomma una sorta di sfiducia politica. A questo punto, comunque sia, la rottura è questione di giorni, al massimo di settimane, forse di ore. Italia Viva, scrive Lamarre, è stata protagonista dell'ennesima giornata complicata per la maggioranza, e per tutto il giorno si sono rincorse le voci più estreme, compresa quella che voleva l'ex premier pronto a ritirare i ministri. A Palazzo Madama la crisi quotidiana scoppia di mattina in Commissione Giustizia sul decreto intercettazioni che deve essere convertito entro fine mese, passando anche alla Camera. Pietro Grasso, l'EU, propone un emendamento che allarga le maglie dell'uso delle intercettazioni. Davide Faraone annuncia il voto contrario di Italia Viva. Il rischio che la maggioranza vada sotto è concreto, si sospendono i lavori, il sottosegretario della giustizia Giorgis, si precipita in Senato per trovare un accordo grasso. Ritira l'emendamento e il pentastellato già russo, il relatore, ne scrive uno ad hoc. Come vedete c'è un caso al giorno e in questo caso a onor del vero i Renziani avevano la posizione più garantista o se volete la meno giustizialista all'interno della maggioranza giallorossa. Allora, come facciamo sempre in questi incontri di wrestling, perché qui non è pugilato col sangue vero, questi sono tutti colpi finti, con poche eccezioni, andiamo in un angolo del ring e poi nell'altro. Abbiamo visto l'angolo di Renzi, spostiamoci nell'angolo di Conte che ci viene raccontato con toni molto compresi nella parte da Monica Guerzoni, retroscena, pagina 3, sul Corriere della Sera. Conte ora avverte l'alleato rivale, se viene meno la lealtà verifica in Parlamento e quindi siamo qui al punto della giornata con Conte che dice sai cosa c'è? Andiamo a una conta parlamentare. Per il professore di voltura Appula le strade sono due soltanto. O Italia Viva decide di proseguire l'esperienza giallorossa, virgolette, con rinnovato entusiasmo e piena disponibilità a correre insieme con spirito di squadra e immaginate Renzi, diciamo, se aderisca a questa fotografia oppure la scena cambia, scrive la Guerzoni. L'Useppe Conte apre formalmente la crisi e lo fa in Parlamento sotto gli occhi degli italiani, come la scorsa estate quando il guastatore era Salvini e l'inquilino di Palazzo Chigi lo brutalizzò verbalmente dai banchi del Senato. Questa è la versione della coerzione. Ecco la contromossa che il Presidente del Consiglio sta studiando affidarsi al percorso parlamentare più trasparente possibile nella convinzione che i responsabili verranno fuori al momento del bisogno. Al momento del bisogno, così. L'angolo, diciamo, di Conte sul Corriere della Sera. Ma restiamo sul Corriere della Sera per tornare nell'altro angolo ancora, l'angolo di Renzi, in questo caso ci aiuta Tommaso Labate. Ecco le mie condizioni. Renzi pronto allo strappo e incassa due nuovi arrivi. Eh sì, perché nel gioco dei responsabili e dei controresponsabili, ieri evocavamo grandi reclutamenti sulle vie con solari romani, nore notturne, gonne corte, gonne lunghe, ieri Renzi ha segnato un paio di colpi, perché avevano detto sfileremo dei deputati o dei senatori a Renzi e invece per il momento è lui ad averne sfilati due ratto delle sabine, qualcuno ha detto il ratto delle sardine, valutate voi, una deputata di Leu che si chiama Michela Rostanna e che da Leu passa a Renzi e un più noto senatore, già mi pare vice direttore all'Espresso, il giornalista Tommaso Cerno, eletto nel PD, che ora dice passo con Renzi perché l'esecutivo è in prescrizione. Vediamo come racconta le cose Tommaso Labate, perché poi c'è stata una cena ieri dei Renziani con tanto di foto in un ristorante di Trastevere, Renzi come lo immaginate, rosso paonazzo da bronzatura con camicia bianca, diciamo che se parte un bottone si rischia l'accusa di strage, poi Laboschi, la bella nuova elegantissima come sempre e vediamo come racconta le cose Labate. Alle 21.30 di ieri poi Renzi si è accomodati in un ristorante di Trastevere, scelto dall'uomo macchina Luciano Nobili. Eh, sarà contento Nobili, vedi mamma, vedi papà, mi citano sul Corriere della Sera, ho scelto il ristorante della cena. Entrando, Renzi ha ribadito in modo retorico il concetto, virgolette, se il premier ha i numeri per andare avanti senza di noi va benissimo, in bocca al lupo. Il rischio che qualcuno lo abbandoni in extremis c'è ancora ovviamente, ma ci sono i nuovi arrivi. Tommaso Cerno arriva dal gruppo del PD, alla Camera dell'EU aderisce Michela Rostan. Dopo l'affonto di oggi la palla starà nelle mani di Conte, il gruppo dei responsabili pronto a sostenerlo c'è sia alla Camera che al Senato. E a questo punto noi ce ne andiamo all'opposizione, ha chiarito il leader di Italia Viva. Le smentite rispetto ai rapporti con Salvini non reggono, almeno dentro Forza Italia, dove Fior di Berlusconiani sono convinti che Matteo punta a sostituirci con l'altro Matteo. Va bene, questo è Tommaso Labate. Volete un altro, diciamo, ormai esegeta del Renzismo? Eh, Augusto Minzolini, che si aggira come un volpone nei palazzi e la politica e c'è ancora qualcuno che gli risponde, non sapendo che tutto sarà verbalizzato e messo la mattina successiva sul giornale. Tra questi Piero Fassino, che fa una delle sue profezie, che resterà leggendaria, dice che il centrodestra va coinvolto per una grande riforma istituzionale, tutta la prima colonna se ne va così. E poi però, attenzione, perché si arriva alla parte più palpa del retroscena di Minzolini, la politica ignobile, e già caminata dall'incipit che non si mette bene per i citati. In via del Vicario, a dieci metri dalla Camera, Marcello Fiori, ex coordinatore di Forza Italia nelle Marche, ora dissidente, spiega la filosofia dei cosiddetti responsabili, cioè parlamentari di centrodestra, che secondo un tam-tam che va avanti da mesi, dovrebbero aiutare il governo Conte a sopravvivere, virgolette. In settimana, annuncio, ma non è la prima volta, dovrebbe nascere il gruppo al Senato, ma si tratterebbe di un nuovo soggetto politico che avrebbe l'obiettivo di stabilizzare la legislatura, anche se ancorato nel centrodestra. E certo, stai nel centrodestra e sostieni il governo di sinistra. L'organizzazione portante sarebbe quella dell'Udc, ma ci sarebbero i totiani, cioè i seguaci di Toti, come Romani e Quagliariello, Lapolverini e altri. La Carfagna potrebbe aggiungersi, non ora, ma cose fatte. Ovviamente il nostro interlocutore sarebbe conto. Ovviamente, dice il malcapitato, si chiudono le virgolette, riprende Minzolini. Inutile dire che l'idea di un movimento che appoggia questo governo, ma resta nel centrodestra, che è all'opposizione, è una capriola che lascia il tempo che trova, tant'è che l'azzurro Andrea Cangini, che all'inizio era dell'appertita, ha mollato tutto sbattendo la porta. È una cozzaglia ignobile che punta ad avere due o tre nomine da conte. Non hanno un obiettivo politico ambizioso. Eh sì, questo lo avevamo in effetti intuito. Matteo Renzi, ecco, qui torna il Minzolini, diciamo, esegeta del renzismo. Matteo Renzi, invece, per indole, preferisce la politica ambiziosa, quasi spericolata, ed è tentato, molto tentato, di rilanciare, di abbandonare il piccolo cabotaggio di conte, la politica dei responsabili, del calcolatore alla Camera e al Senato per pensare in grande, come che so, per parlare di riforme, mettere sul tavolo, insieme alla nuova legge elettorale, l'elezione diretta del capo dello Stato o confrontarsi in Parlamento con il vice segretario PD Orlando, che preferisce il cancellierato, virgolette. Hanno tentato di ammazzarmi, è il pur parlet che ha avuto ieri con molti dei suoi, ma non ci sono riusciti, perché molti di loro non si fidano dei cosiddetti responsabili, e anche conteggianti responsabili, secondo me, non hanno i numeri. Vedete, a me non interessa Conte, lui dice che devo essere io a chiedergli un incontro, ma io non muoio dalla voglia di fare una visita a Palazzo Chigi, ci ho abitato, e capite bene che qui siamo, qui siamo agli ospiti di Barbara D'Urso, di Signorini, al Grande Fratello, io in quella casa ci ho abitato, molto bene. Andiamo però a vedere il pezzo forte della giornata, ma insomma questi responsabili ci sono, non ci sono, chi sono? E ci dà una soluzione, vedremo nelle prossime ore se si rivelerà la soluzione vera e propria, Goffredo De Marchis, sul Repubblica, i responsabili in campo, pronto il gruppo al Senato, interlocutori del governo, e le faccine sono quelle di Paolo Romani, Antonio De Poli, Gaetano Quagliariello, e poi come un monito, cioè il simbolo dell'Udc, con scritto Italia, Unione di Centro, e lo scudo crociato. Andiamo a vedere di che si tratta, operazione ai responsabili, già partita, sono in corso colloqui con la Presidente del Senato, Casellati, per formare un nuovo gruppo parlamentare secondo le regole di Palazzo Madama. Serve almeno un eletto con le insegne di un partito che si è presentato alle urne. Doveva essere un deterrente, per forze che vengono alla luce solo in Parlamento, ma come sempre la politica ha trovato il modo di aggirare l'ostacolo. È accaduto con Italia Viva, che si è appoggiata al PSI di Riccardo Nencini. Sta succedendo di nuovo in queste ore, non si aspetterà nemmeno lo Stapo, non si capisce se è temuto e incoraggiato di Matteo Renzi. Il Conte II sta per trovare la sua ciambella di salvataggio. Spostate il caffè dal tavolo perché vi si rovescia. Lo strumento è l'Udc, Unione di Centro, che ha presentato il simbolo col centro-destra il 4 marzo 2018. L'eletto è il senatore Antonio De Poli, ma il vero regista si chiama Paolo Romai, più volte ministro nei governi Berlusconi, capogruppo di Forza Italia alla scorsa legislatura, uomo vicino alla fine, investo ormai in rotta di collisione con il partito azzurro piegato alla deriva salviniana, scrive De Marchis, virgoletta. Noi ci costituiamo e diventiamo interlocutori del governo, dice Romani tirando fuori il pacchetto di sigarette dalla giacca. Aveva smesso di fumare 16 anni fa. Interlocutori is the new responsabili, sembra di capire. Il numero minimo di 10 senatori è un gioco da ragazzi quando c'è in ballo la sopravvivenza della legislatura. Romani si interroga, ma Renzi cosa vuole? Draghi 1? Luigi Zanda, seduto di fronte a 2, gli risponde allargando le braccia. Secondo te Draghi accetterebbe di guidare un governo che nasce sulle macelle? E' effetti la domanda di Zanda ha un senso. Nel mondo berlusconiano Romani sa bene che la politica e i parlamentari i programmi contano il giusto, cioè quasi nulla. Il cuore che muove le strategie del Cavaliere è altrove, virgoletta. Conosco quell'ambiente nel profondo. Berlusconi ha deciso consegnerà Forza Italia a Salvini o magari alla Lega con la garanzia del moderato Giorgetti. La sostanza non cambia. La lettura è tutta soggettiva, non sappiamo che fondamenti abbia da parte di Paolo Romani. Però un'osservazione va fatta perché in questo pezzo di De Marchis come sempre molto ben scritto e molto documentato c'è una piccola imprecisione perché è vero che il simbolo è quello dell'Udc ma alle elezioni del 2018 la lista si chiamava e fu nel caso di dirlo un aborto noi con l'Italia e si misero insieme con lo scudo crociato Cesa e Fitto fu un flop clamoroso lo stesso Fitto che oggi è transitato sotto la insegna della Meloni e che la Meloni difende strenuamente intervistata da Paola Di Caro sul Corriere della Sera e ora gli eletti grazie a quello si fa per dire capolavoro di Fitto e Cesa sono pronti a fare da stampellina al governo detestato dalla Meloni vedete come Bisanzio è ormai la cifra la cifra di una fase politica che ci riporta già ai disastri del proporzionale prima ancora che lo ripristino che lo ripristini nella sua versione più feroce ma la vera ragione per cui non si va a votare la trovate alla pagina 2 del Corriere della Sera e sono le intenzioni di voto che sono rilevate dall'istituto Ipsos di Pagnoncelli e allora facciamo due conti la Lega che tutti descrivono in grave gravissima crisi è talmente in crisi che ha i suoi massi in 32% Fratelli d'Italia al 12% Forza Italia al 6,5% mettendoli ipoteticamente insieme fa 50,5% quindi maggioranza assoluta e quegli altri che peraltro stanno litigando su tutto PD 23% Grillini ai minimi 14% Italia Viva 4,3% più frattaglie varie azione più Europa eccetera cioè mettendo insieme tutte le frattaglie che pure si odiano e si detestano al centro-sinistra si sta a 12-13 punti sotto il centro-destra e capite bene per quale ragione a votare non ci si andrà perché questi giallorossi si rendono conto della situazione abbiamo già consumato tanto tempo ma abbiamo ancora molte cose da raccontare intanto un paio di commenti oggi non sono molti i commentatori che scendono in campo ce ne sono due Antonio Padellaro siamo alla pagina 3 del fatto l'ex rottamatore ci disturba più di Razzi e Scilipoti Padellaro ricorda tutte le stagioni diciamo non gloriose di Gregorio Razzi Scilipoti eccetera e però poi conclude così elencati i motivi di buon gusto che ci fanno diffidare della categoria dei responsabili intesi come disponibili accessibili utilizzabili eccetera dobbiamo ammettere che sull'altro piatto della bilancia c'è qualcosa che ci disturba ancora di più Matteo Renzi nulla di lui può sorprenderci ma quando l'abbiamo visto su Instagram pavoneggiarsi tra principesse e ricchi finanzieri per mancanza di prova abbiamo sentito confessiamolo una certa qual nostalgia canaglia per Razzi e Scilipoti prontamente repressa finché non si è appreso delle reiterate minacce contro il governo Conte eccetera eccetera e quindi avete capito il fatto ci dice guardate Renzi per noi per la redazione del fatto per Padellaro Travaglio e peggio di Razzi e Scilipoti andiamo a vedere un altro commento che non ci ha particolarmente convinto oggi nessuno dei due commenti ci sembra proprio tale da squarciare le nubi e darci grandi raggi di luce è quello di Antonio Polito sul Corriere della Sera che prosegue l'operazione perché oggi c'è una grande intervista a Giorgia Meloni sul Corriere della Sera sentita come giusto con grande rispetto da Paola Di Caro che fa domande ficcanti e raccoglie le risposte molto bene argomentate di Giorgia Meloni quindi c'è una leader di centrodestra trattata come giusto con grande rispetto e invece Salvini è buttato nel racconto circense che fa Polito mettendo insieme i due Matteo il gioco è questo due Matteo in movimento Matteo Renzi ci sta dimostrando in queste ore che le vicissitudini del suo passato non erano frutto di un cattivo carattere come pure si è benevolmente detto ma di un preciso modo di concepire la lotta politica poiché è uno stile che condivide con l'altro Matteo della politica italiana e non si sa mai se è nato prima l'uovo o la gallina forse si può provare ad analizzare questo matteismo leninismo che domina ormai da anni il discorso pubblico del nostro paese quotidianamente in attesa di scoprire chi asfalterà chi ma perennemente incerto su chi governerà dopo non se ne abbiano male i fan di entrambi facili all'offesa quando si paragona il loro leader all'altro considerato il male assoluto ma per quanto in questa fase Matteo S sia allo zenith della sua parabola e Matteo R al nadir del suo consenso in passato fu il contrario e molto li ha comune va bene qui prosegue il giochino delle somiglianze vere presunte che fa che fa Polito il leninismo tutte queste storielle qua e però direte voi da Polito ci infligge per l'ennesima volta sta pappardella di Renzi uguale a Salvini Salvini uguale a Renzi cosa che non convince moltissimo ma dove si va a parare al centro ecco se c'è qualcosa che ha comune il benedetto elettorato di centro oggi a parole disprezzato seppur da tutti disperatamente cercato è una preferenza per i vantaggi della stabilità politica questi importanti questi italiani chiedo scusa e con loro pezzi importanti dello stesso establishment che ne favorì l'ascesa potrebbero presto non ricordare più perché Renzi stia facendo il giamburrasca con il risultato di consegnare proprio a Conte nemico giurato di entrambi i Mattei obiettivo comune da abbattere il dividendo della difesa della stabilità i tecnici che l'hanno investito alle elezioni prima di lui Dadini a Monti ne trassero un gruzzoletto di voti che oggi sarebbe sufficiente a fare la felicità di Renzi a fare la differenza per Salvini allora però avete capito bene se abbiamo fatto tutta sta pappardella per dire forza Conte forza Pochette e sarà Conte a fare la lista centrista che sarà ago della bilancia della futura politica italiana la sensazione che l'editoriale di Polito non sia proprio illuminante facciamoci illuminare dalle sardine oggi non è che ci sia tantissimo però si raccomanda su questo la verità con due cose intanto Francesco Borgonovo che trova una notizia gustosa che fa capire molte cose la fabbrica delle sardine di stoffa non paga l'affitto alla parrocchia Borgonovo il vice direttore della verità è andato a scoprire qual è l'aziendina che fa questi gadget per il movimento realizzati da un'associazione che si dichiara estranea a questioni religiose ma a sede nei locali della chiesa di San Mamolo concessi incomodato dubbi anche sulle ricevute mentre nel pezzo di sotto Alfonso Piscitelli ci racconta molto bene con una prosa altrettanto bella di quella dell'articolo che abbiamo appena citato di Borgonovo la sortita non brillante a Napoli di Santori l'erotico romantico contrapposto all'erotico Tamarro però è l'erotico Tamarro cioè Salvini ieri ha fatto il pieno a Napoli alle sardine non è andata bene c'erano pochissime persone presenti Santori satteggia padrone di casa qui Salvini non è gradito però insomma c'era c'era poca gente però c'è un aspetto interessante che pure coglie Piscitelli le sardine hanno sparato a palle incatenate contro il governatore De Luca ci si attendeva ne parlavamo anche nella rassegna di ieri una risposta fiammeggiante nello stile di De Luca che invece è stato insolitamente cauto evidentemente trattative in corso nel centro-sinistra in vista delle regionali in campagna dove pure sul lato destro alla candidatura che sembrava in pole position sia pur criticata dalla Lega quella di Stefano Caldoro se ne affaccia un'altra che sarebbe caldeggiata da Salvini quella dell'attuale direttore del Tg2 Gennaro San Giuliano staremo a vedere ancora su Santori coglie giustamente una contraddizione e fa molto bene a pagina 8 di Libero Giovanni Sallusti l'ultima delle sardine federalista è un'offesa la parola federalista Santori invita i napoletani a non votare la Lega perché si riferebbe ancora alle teorie che già furono di Cattaneo e un secolo dopo e passa di Emilio e se fosse si domanda giustamente Sallusti Santori oltre a essere diciamo maestro di sentimenti d'amore di erotismo diventerebbe anche diciamo come dire dispensatore di patenti o invece ufficio patenti che ritira la licenza di guida anche sul piano delle architetture istituzionali della forma di Stato della forma di governo Cattaneo lo espelliamo dalla storia patria e il federalismo pure ma si è consentito questi sono giochi per i giovani poi ci sono i giochi per adulti e sono giochi pesanti stiamo parlando delle nomine perché poi dietro tutta questa storia non è che voi crederete che la politica italiana ruoti intorno alle fasi lunari del senatore Cerno della deputata Rostan tutti questi personaggi in cerca d'autore che si spostano da un gruppo all'altro il tema vero sono le nomine e tra le nomine le super nomine chi farà l'amministratore delegato di Eni di Leonardo queste cose qua e oggi cominciano i colpi pesanti attenzione andate nella rubrica sul fatto di Stefano Feltri firma sempre interessante da leggere sapete che Stefano Feltri è stato responsabile delle pagine economiche del fatto poi vice direttore del fatto ora si è preso un periodo sabbatico scrive sul fatto ma diciamo come un commentatore perché chiamato crediamo dal professor Zingales e dalla prestigiosissima università di Chicago sta lì e dirige un sito online che si chiama promarket.org scrive cose molto interessanti e però attenzione oggi spara un colpo di cannone contro l'attuale amministratore delegato Descalzi che è in corsa per succedere a se stesso con toni di una durezza inaudita non potete confermare Descalzi a Leni non ci provate nemmeno cari Giuseppe Conte Roberto Gualtieri e Sergio Mattarella certe cose non si fanno in silenzio come fosse tutto ovvio e lineare se volete riconfermare Claudio Descalzi dovete spiegare agli italiani perché volete alla guida della più strategica azienda italiana un manager imputato per corruzione internazionale beneficiario per il momento a sua insaputa di depistaggi giudiziari che non si vedevano dai tempi della strategia della tensione la cui moglie ha ricevuto appalti per centinaia di milioni di dollari dall'Eni all'insaputa del marito ovviamente che all'epoca era virgolette solo il numero due dell'azienda Descalzi non è condannato scrive prudentemente a metà articolo Feltri ma chi legge il fatto e pochi altri giornali non influenzati dai budget pubblicitari di Eni sa che ci sono mille ragioni per non confermarlo eccetera eccetera allora voi potete condividere non condividere la forma la sostanza lo stile dell'articolo di Feltri però il pensiero corre a quella università di Chicago dove c'è il professor Zingales grande avversario di Descalzi ed ex membro del consiglio d'amministrazione di Eni se non sbagliamo e allora vedete come si apre una partita per carità sicuramente l'opinione di Feltri è del tutto scevra da qualunque contatto con Zingales noi non facciamo allusioni ci mancherebbe altro però capite che siamo entrati in un gioco di colpi regolamenti di conti partite da chiudere avvisi giudiziari una partita di Descalzi o a mezzo stampa e chi voglia questa rassegna serve nel suo piccolo a leggere tra le righe dei giornali non solo gli articoli sui giornali sì sulle righe trovate appunto l'Arostan le deputate i deputati i responsabili l'Udc lo scudo crociato sti poveracci che si offrono per piatti di lenticchie ma poi invece tra le righe ci sono le partite vere come questa altra partita vera anzi la partita più vera di tutte ma meritoriamente è solo la verità a tenere il punto con il bravo Giuseppe Liturri sempre da leggere pagina 7 MES l'Eurogruppo asfalta le balle di Conte oggi il Premier tornerà in aula per riferire sul prossimo Consiglio europeo ma dovrà arrendersi all'evidenza anche nel testo uscito ieri dall'Ecofin non c'è traccia della logica di pacchetto con cui Giuseppe volle farci digerire la riforma del meccanismo di stabilità vi ricordate quando Conte diceva in Parlamento in televisione no ma c'è una logica di pacchetto perché non c'è solo la riforma del MES che per noi è svantaggiosa ma ci sono pure passi avanti sull'onore bancaria tutta una serie di altre cose e la verità è che il pacchetto non c'è è rimasto solo il pacco del MES e lo ricorda bene Liturri c'è poi la partita bancaria che ieri vi abbiamo anticipato prima che i giornali potessero parlarne intesa è la sua offerta su Ubi e questa mattina per chi ci segue in diretta sono le 7.34 tra un'ora e mezzo alle 9 si riunirà il consiglio di amministrazione di Ubi per una prima valutazione su questa offerta vedremo se dirà che l'offerta è giusta se diciamo il prezzo l'offerta è adeguata o meno oggi vi consigliamo tre cose su questo tutte da leggere Claudio Antonelli che spiega tutta la dinamica dell'operazione sulla verità sempre sulla verità Camilla Conti che illumina il ruolo di Giovanni Bazzoli che nega ieri ha fatto una nota dicendo no io non c'entro niente eccetera ma secondo la Conti e mi pare che abbia totalmente ragione si riconosce un'impronta un metodo tesi condivisa sulla prima del giornale anche da Nicola Porro anche lui vede diciamo questa impronta e aggiunge un elemento di attenzione al fatto che come advisor intesa la di Messina abbia scelto Mediobanca Tica Versailles e quindi c'è anche questo gioco diciamo in questo caso di squadra intesa Mediobanca e dice Porro in un'Italia in cui mancano ormai punti di riferimento questo è ormai un polo non solo bancario ma è un polo di rilevanza tra virgolette politica sul giornale viene sentito ed ha un giudizio positivo sull'operazione anche Ennio Doris restano due questioni da segnalare intanto nel nostro piccolo un grande complimento alla senatrice a vita Liliana Segre allora ieri c'era una cerimonia alla Sapienza nei giorni scorsi in modo incivile una serie di studenti di sinistra volevano impedire che prendesse la parola uno studente eletto in una lista non di sinistra e vedete che cosa è successo lo racconta Fabrizio Caccia sul Corriere della Sera mentre fuori del rettorato i giovani del collettivo Sapienza Antifa cantano bella ciao e scandiscono slogan contro di lui dentro l'aula magna Valerio Cerracchio 24 anni del movimento giovanile di destra generazione popolare e risponde come Bartel Bailo Scrivano alla richiesta di un commento sulle polemiche della vigilia preferirei di no il fatto è che Cerracchio esponente della lista universitaria più votata Sapienza in movimento ieri è stato chiamato dall'Ateneo a intervenire in rappresentanza di tutti all'inaugurazione solenne dell'anno accademico alla presenza del capo di stato Mattarella e della senatrice a vita Liliana Segre studente neofascista l'hanno etichettato i suoi coetanei antagonisti e dei collettivi che hanno chiesto fino all'ultimo al rettore Eugenio Gaudio di fare un passo indietro sulla scelta così tamendo scontri polizie e carabinieri hanno transennato l'area e tenuto lontani i gruppi di antifascisti Cerracchio però studente di ingegneria civile industriale non ci sta io non ho nulla a che fare col fascismo che appartiene a un'altra epoca credo nella democrazia e nei principi della costituzione e la sua rivincita l'ha avuta proprio ieri quando a fine cerimonia Liliana Segre trovandoselo davanti durante i saluti finali non ha esitato sai che hai il ciuffo come mio nipote posso darti un bacio anche se sono vecchia lui con gli occhi lucidi per la commozione ha detto sì ricambiando l'abbraccio e questa è diciamo la scena più bella della giornata complimenti alla senatrice Segre che si mostra una, due, tre spanne al di sopra degli ayatollah politici che hanno cercato di strumentalizzarla di usarla come corpo contundente da scagliare contro il centrodestra restiamo sul Corriere della Sera per l'ultima segnalazione un'altra storia tutta da seguire allora il candidato macroniano al comune di Parigi che è stato azzoppato si è azzoppato per clamoroso autogol ha inviato foto delle sue parti intime a una signorina e poi queste foto sono circolate apriti cielo e eccetera sui giornali italiani eppure su quelli francesi e anche al di fuori sui social anche persone che si sperava fossero un po' ragionevoli è partito solo il gioco chi sta con Macron chi sta contro Macron non interrogandosi invece sulla serietà della questione noi che non stiamo né con gli uni né con gli altri perché né piace la risposta di Macron che è quella di un giro di vite su internet di una stretta sui social sembra un gran pretesto per una stretta censoria sui social ma neanche con i suoi avversari che sembrano legittimare qualunque mezzo anche il più barbara il più incivile il più invasivo contro la vita degli altri pur di attaccare il nemico ci troviamo in una posizione terza e oggi come dire ci conforta questo pezzo di Stefano Montefiori da Parigi che ci fa capire come anche il fronte anti Macron non è che sia brillante il ruolo ambiguo di Branco l'avvocato che odia l'élite ma ne fa parte ed è consigliere della coppia che è stata arrestata per aver diffuso i video di Grivaud al centro del caso Grivaud c'è Joan Branco lo leggiamo così perché come vedremo la provenienza non è francese giovane brillante e petulante avvocato vicino a Julian Assange e ai gilet gialli capace di denunciare l'indignato l'oligarchia di Macron e le grandi feste di Jacques Attali senza provare imbarazzo quando lui stesso dà un ricevimento di Capodanno 2019 nello sterminato appartamento della fidanzata nel cuore di Saint Germain tanto disprezzato quanto frequentato sin dall'infanzia a quella festa c'erano anche invitati da Branco l'artista russo Piotr Pavlensky e la sua compagna Alexandra de Taddeo la coppia arrestata sabato e da ieri sotto inchiesta per aver diffuso online i video intimi di Benjamin Grivaud ormai ex candidato macronista a sindaco di Parigi quella serata di Capodanno finì male perché l'esuberante Pavlensky dopo un diverbio accoltellò due ospiti uno con la lama piantata nella gamba l'altro sfregiato su tutto il volto niente comunque che potesse intaccare l'amicizia e la comune missione del mondo di Piotr Alexandra e Juan il trio idealista situazionista estremista in lotta contro l'elite pur facendone parte e chi è questo avvocato? è figlio di un produttore cinematografico portoghese Paolo Branco e della psicanalista spagnola Dolores López siamo dentro un film di Almodóvar c'è il produttore cinematografico c'è la psicanalista spagnola che ha dato anche alcuni consigli legali alla coppia prima che l'azione militante contro l'ipocrisia dei politici difensori della famiglia venisse eseguita sì ci ha convinto Montefiori né con Macron né con i suoi avversari di questo tipo che mettono le mani nel fango va bene il nostro tempo è finito anzi no siamo andati molto oltre il previsto però abbiamo anche sorriso insieme di un po' di cose serie e di altre gravi il nostro tempo è finito noi ci ritroveremo questa sera alle 19 e sarà un appuntamento importante chiacchierata con il vice direttore della verità Martino Cerbo poi ci ritroveremo domani mattina alle 7 e non sarò solo sarà con me Francesco Gialietti di Policy Soner e sarà una bellissima conversazione vi auguriamo la migliore giornata possibile e sarà la migliore se però passerete prima in edicola a prendere la verità e panorama buona giornata a tutti e sarà la migliore